Nuova incursione delle Iene, questa volta nel corso di una tavola rotonda nella sede della Fondazione Fare Futuro di Adolfo Urso. Angelo Duro, il cantante senza pubblico, armato di microfono e della sua giacca verde, questa volta ha scelto di esibirsi in presenza del Ministro del Lavoro Maurizio Saccuoli. Alla sua esibizione hanno posto fine gli addetti alla sicurezza, ma la Iene ha portato comunque a casa il suo obiettivo.